Salve ragazzi bentornati nel canale. Allora oggi video da una location differente, sono in macchina e oggi volevo parlare, visto che mi è stato richiesto, di quello che riguarda il plano di sauge, ossia le assicurazioni sanitarie e private che si possono fare qua in Brasile. Questo discorso viene fatto perché? Perché, beh, parliamoci chiaro, qui in Brasile la sanità pubblica diciamo che lascia parecchio a desiderare. Ci sono alcuni ospedali che non sono poi così male, ma insomma la sanità pubblica non è certamente un fiore all'occhiello. Ed è proprio per questo che ci sono molte assicurazioni private che offrono varie assicurazioni sanitarie appunto private, chiamate qui plano di sauge. Il discorso sarebbe molto lungo perché esistono talmente tante varianti sulle assicurazioni sanitarie, ma io cercherò di stringere, riassumere il più possibile cercando di far capire un pochino come funziona la cosa. Allora, in pratica ci sono proprio varie assicurazioni che propongono i loro pacchetti di plano di sauge a vari prezzi. I prezzi variano a seconda dell'età di chi va a stipulare la polizza, prima di tutto, e poi in base a quello che si vuole inserire dentro, perché ci sono tante opzioni da poter inserire. E poi quasi sempre ci sono anche, chiamiamole, dei vincoli, delle clausole, come ad esempio stipulando un'assicurazione sanitaria. Ad esempio io vado in assicurazione, faccio la mia assicurazione sanitaria, pago, esco, torno a casa, non mi sento bene, ho bisogno di una cosa veramente urgente, l'assicurazione sanitaria ancora non mi copre, perché per le urgenze devono passare minimo 24 ore dal momento della stipula. Prima cosa. ci sono molte di queste clausole, come ad esempio dal momento della stipula per determinate cose devono passare 15 giorni, per determinate cose devono passare 30 giorni, per altre cose tre mesi, sei mesi, anche fino a dieci mesi. Ad esempio nel caso in cui vado a stipulare l'assicurazione sanitaria una donna che sia in stato di gravidanza, l'assicurazione sanitaria mette una clausa dove per il parto devono passare dieci mesi al momento della stipula, in modo che è impossibile che se una donna già in stato di gravidanza dovesse stipulare l'assicurazione non può essere coperta andando magari appunto a partorire in una clinica privata eccetera eccetera, perché poi le cliniche private qui sono di primo ordine, sono di primo livello, quando poi si pagano queste assicurazioni sanitarie addirittura si ha la possibilità di scegliere se è camera in comune o camera singola, insomma si viene trattato in una maniera completamente diversa. Per quello che è la mia opinione personale, se uno mi dovesse chiedere ma se io vengo a vivere in Brasile mi conviene? Conviene sotto il livello economico? Non lo so, poi infatti adesso andiamo a vedere un attimino anche sui prezzi perché comunque non costano poco. Conviene avere un'assicurazione sanitaria, un plano di salute perché comunque nel momento in cui si dovesse avere bisogno soprattutto per cose un pochino più serie si ha la possibilità di avere delle cure, delle cliniche, dei medici immediatamente, se si devono fare degli esami li si fanno immediatamente, non si deve andare a quello che qui è l'equivalente della mutua, ordinare un esame, magari attendere dei mesi, avendo l'assicurazione sanitaria è più o meno immediato, quindi è una cosa buona avere l'assistenza sanitaria. Il discorso dei costi, allora i costi anche qui ci sono un sacco di varianti perché dipende che cosa ci mettiamo dentro, le varie opzioni, la fascia di età. Facciamo finta che l'assicurazione sanitaria la faccia una persona di circa 30 anni, quindi una persona abbastanza giovane, un'assicurazione sanitaria per una persona di 30 anni varia da un minimo di 200 reais, perché sono andato a leggermi tutto, se non mi ricordo mai, da un minimo di 200 reais a un massimo di 2500 reais al mese, quindi diciamo da un'assicurazione sanitaria, chiamiamola pacchetto base da 200 reais al mese fino ad arrivare a 2500 reais al mese, dove ovviamente si avranno tutte le coperture dentro di ogni cosa, anche quella del dentista, attenzione, perché poi si può anche inserire il dentista. Io ad esempio ne ho una a parte, io personalmente che ho fatto solo per il dentista ed è super consigliabile anche. Mentre mettiamo caso che voglia farsi l'assicurazione sanitaria privata al plano di saúde a una persona già su con gli anni, intorno ai 60 diciamo, qui il prezzo comunque sale, va quasi a raddoppiare, perché si parte da un minimo di 400 reais al mese fino a 4.000-4.500 al mese, anche qui sempre varia da tutto quello che si inserisce dentro come opzioni, quindi da un'assicurazione base di 400 reais al mese fino alla più completa che è di 4.000-4.500 reais al mese, quindi parliamo comunque di cifre importanti. Poi ci sarebbe anche un'altra opzione, ci sarebbe l'assicurazione sanitaria, il plano di saúde, quello chiamiamolo per nucleo familiare, ad esempio un nucleo familiare di marito e moglie con un figlio. L'assicurazione sanitaria parte da un minimo di mi sembra 1.500-2.000 reais al mese fino ad arrivare anche 10-12.000 reais al mese, ovviamente copre tutte e tre i componenti del nucleo familiare e anche qui le varianti sono dal piano base fino al più completo. Ecco, questa è giusto un'infarinatura di quello che è il piano di saúde e l'assicurazione sanitaria qui in Brasile. Spero di aver potuto chiarire qualche dubbio, di aiutare qualcuno qualora avesse curiosità. Mi è stato richiesto, quindi so che qualcuno voleva sapere come funzionavano appunto qua i piani di saúde in Brasile. Spero appunto di essere stato esauriente. Ripeto, ho cercato di riassumere molto 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 perché comunque la cosa è complessa, ci sono dentro tantissime varianti, quindi il discorso diventerebbe veramente lungo, ci vorrebbe il video magari anche di un'ora per andare a discutere e a chiarire tutte le clausole, le varianti. Diciamo che ho cercato di dare un'infarinatura base per capire comunque più o meno le fasce di prezzo e quali privilegi o servizi, chiamateli come volete, si hanno se si va a stipulare un plano di saúde. Ok, io ragazzi invito sempre a iscrivervi nel canale per darci una mano perché ho visto che siamo ancora in pochini, non vi costa niente, è gratuito, schiacciateli, iscriviti, iscriviti, cercheremo di proporre nuovi contenuti, nuove cose e dai vi aspetto. Nei commenti vi invito sempre a scrivere qualsiasi cosa che volete andare a chiarire, a discutere, qualsiasi dubbio su quello che è il mondo Brasile, vivere in Brasile. Quindi vi aspetto, lasciate un like se quello che vi spiego, che vi mostro è di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. Ciao!